Il partito della sinistra europea è una responsabilità enorme perché dobbiamo riuscire a rappresentare l'opzione di sinistra dentro l'Europa, ma non solo sul piano politico, dobbiamo costruirla come opzione politica, culturale e sociale. Per questo c'è il lavoro di Transform che fa un enorme lavoro sul piano culturale, per questo abbiamo dato vita a una rivista, a Cristioni, che cerca di costruire una cultura politica comune tra tutte le sinistre di alternativa dell'Europa, perché per costruire un'altra Europa serve il partito, ma serve una cultura e servono delle lotte europee, a questo lavoriamo.